Buon anno speriamo, qui dove stai? Sì, sono bene Come ti sembra? Buon bellissima serata, le ragazze sono fantastiche e sono carigliose Ciao, ciao 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 E' stato fatto la corona di cioca Sai cosa vuoi fare? Sì E' un momento molto grande E' un momento che vuoi fare La pariutica La pariutica La pariutica E' un momento E' un momento C'è la... E' un momento La pariutica E' un momento E' un momento meraviglioso L'ultimo 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 La pariutica La pariutica E' un momento meraviglioso